Il prossimo 30 marzo, in occasione del Venerdì Santo, si rinnoverà l'Eventi all'Aquila, la 63esima edizione della Processione del Cristo Morto. Quest'anno, per la prima volta, la scorta d'onore sarà affidata al personale della Prefettura dell'Aquila. Organizzato dall'Associazione Cavalieri del Venerdì Santo, che dal 2000 per questo evento supporta i frati di San Bernardino, il corteo aquilano è particolare e unico nel suo genere, perché caratterizzato soltanto da simulacri di arte moderna che sfilano lungo le vie del centro. La maggior parte di questi simboli furono realizzati nel 54 da Remo Brindisi, di cui ricorre il centenario della nascita. La ricorrenza sarà sottolineata da una conferenza che la pronipote Linda Brindisi, anche lei artista, terrà martedì 27 marzo alle 17 nel Munda. Sarà affidata per la prima volta al personale dell'UTG della Prefettura dell'Aquila. La prima volta che la Prefettura farà la scorta d'onore dal 1954, da quando si svolge la processione moderna dell'Aquila. Per quanto riguarda tutte le iniziative, come vi siete organizzati? Quest'anno abbiamo cercato di fare un calendario che comprende quattro eventi, compresa anche la processione. Si parte dal martedì con un omaggio a Brindisi, a Remo Brindisi, che ha realizzato il 14 simulacri del Cristo morto, di cui quest'anno ricorre il centenario. Verrà una pronipote a parlare della figura di quest'artista, che recentemente si è laureata all'Accademia di Brera, presentando una tesi sullo zio e parlando anche dei simulacri del Cristo morto aquilano. Quindi a novembre scorso, per la prima volta, il Cristo morto dell'Aquila è entrato all'Accademia di Brera, seppure in foto. Questa pronipote vive a Milano, fa un artista anche lei, e il 27 marzo al Munda, martedì, illustrerà al pubblico la sua tesi anche con dei positivi. La scorta ad onore dei dipendenti della Prefettura dell'Aquila sarà impegnata anche il giovedì santo, 29 marzo alle 18.30, nella Basilica di San Bernardino. A loro verrà effettuata la tradizionale lavanda di piedi. Il venerdì santo, alle 16.30 inoltre, nella Basilica di San Giuseppe Artigiano in Via Sassa, il Conservatorio Aquilano Statale di Musica Alfredo Casella eseguirà lo Stabat Mater, nella versione di Giovanni Battista Pergolesi.